ciao ciao a tutti bentornati sul mio sbrillucicoso canale eccomi qua che come potete vedere qui davanti c'è una nuova bustina meravigliosa cosa conterrà questa bustina ormai credo lo sapete già è il nuovo progetto in collaborazione con il sito semplici bijou qui c'è tutto l'occorrente per la realizzazione del progetto come vi avevo detto appunto vi avevo già anticipato che sto cercando di tornare attiva sul canale poi tra l'altro in questo caso questo progetto doveva uscire un po di tempo fa infatti è diverso tempo che ho realizzato questo progetto per rené però un po la pandemia la nostra quarantena è un po tutto il disagio che c'è stato anche per rifornirsi di materiale quindi abbiamo dovuto aspettare un attimo di poter avere tutto quanto per poter partire al meglio per fare tutti quanti i kit e le versioni dei kit alle quali vi abbiamo sempre abituato quindi questo è appunto è la grafica del mio nuovo progetto meraviglioso si tratta di un ciondolo questa volta tanto che non ne faccio uno è il primo che faccio in collaborazione con il sito semplici bijou dopo aver fatto un bracciale un paio di orecchini e la volta appunto di un ciondolo il ciondolo l'abbiamo deciso di chiamare luna park come potete intuire dalla grafica guardate che bella veramente stupenda come sempre ci sono delle grafiche carinissime non so voi ma io ho tutte le bustine sia dei miei progetti che dei progetti che avevo preso appunto di altre creative sempre da rené li tengo perché mi piacciono tantissimo queste bustine con tutte queste belle immagini la versione che andremo realizzare insieme nel tutorial che troverete online fra qualche giorno è la versione appunto il modello brucomela poi ci saranno altre quattro versioni che vi lascerò dettagliate appunto vi lascerò la fotografia più avanti sempre questo video ora invece passiamo insieme a vedere il materiale dopo di che appunto io realizzerò il progetto così a fine di questo video oltre a farvi vedere tutte le versioni le colorazioni di abbinamenti di colore per le altre versioni vi farò vedere anche il progetto terminato nella versione appunto brucomela allora qua come sempre è descritto tutto quanto il contenuto ma ora lo andiamo a vedere insieme eccoci qua che parto con mostrarvi il materiale contenuto nella busta del kit questa è appunto la versione brucomela poi vi lascerò come vi dicevo in coda tutti gli altri abbinamenti quindi tutti e cinque gli abbinamenti parto dal centro del ciondolo ovvero da rivoli ecco che in questo caso abbiamo un rivoli in cristallo da 18 mm in questo meraviglioso color topaz poi abbiamo le rocaille questa volta ho utilizzato to ma guardate in quale meravigliosa colorazione in questo caso c'è effettivamente io dico sempre che preferisco usare mi yuki lo ribadisco però quando andiamo a vedere alcune colorazioni di to sono veramente spettacolari questa sicuramente una di quelle sono la colorazione galvanized rose gold sono le confezioni intere da sito quindi 5 grammi per quanto riguarda le 15 0 10 grammi per le 11 e 10 grammi per quanto riguarda le otto eccole qua poi utilizzeremo delle perle perle in vetro cieche da 3 mm questo bellissimo colore e da 4 mm eccole qua poi utilizzeremo delle ginko le mie amate ginko e troviamo appunto la confezione anche in questo caso ovviamente da sito 10 grammi poi utilizzeremo delle super duo guardate che bel colore è il powdery passel pitch confezione anche in questo caso da 10 grammi e poi essendo un ciondolo ovviamente ci servirà anche la catena e guardate guardate veramente questa è stata quella che ci ha fatto tendere di più ma ne valsa sicuramente la pena adesso ve la mostro bene ci sono anche ovviamente gli anellini eccoci qua abbiamo gli anellini appunto sempre anche loro in alluminio come la catena stessa quindi una catena leggerissima molto molto luminosa e soprattutto guardate che meraviglia in color oro rosa quindi in perfetta in perfetto abbinamento alle rocaille che stiamo utilizzando guardate che bella veramente ne valsa la pena di aspettarla perché è stupenda poi guardare è leggerissima veramente bene questo è il materiale che adesso vado subito a realizzare per il tutorial che troverete ovviamente online fra qualche giorno io vi lascio qui la carellata delle dei cinque abbinamenti dove gli abbinamenti che sono possibili da scegliere appunto per il ciondolo una park alla fine appunto del degli abbinamenti vi mostrerò il ciondolo realizzato in questa versione quella del tutorial e la versione il modello brucomela a dopo ciao ciao eccomi di ritorno avete dunque appena visto le cinque varianti di abbinamenti colore che come sempre ha messo insieme magnificamente René quindi avete visto i cinque abbinamenti per i cinque modelli compreso appunto questo che vi ho fatto vedere in apertura davanti vedete qui le bustine praticamente quasi piene ancora ma in realtà ho già utilizzato quello che mi serviva per realizzare il ciondolo questo per mostrarvi quanto materiale vi avanza dopo aver realizzato il ciondolo guardate veramente le bustine di rocali praticamente quasi intatte eppure così per le super duo e guardate quante ginko e quante perle sono rimaste nonché anche il pezzettino di catena quindi ora non mi rimane che mostrarvi il ciondolo quindi il protagonista diciamo di questa presentazione il ciondolo luna park ed eccolo qua il ciondolo luna park questo è il modello brucomela come vedete in apertura e realizzeremo il tutorial su un'altra versione perché essendo passato un po di tempo ho diciamo dovuto fare un altro prototipo che ho realizzato appunto col brucomela mi dispiaceva di sfarlo per poi farsi tutorial quindi realizzeremo insieme il tutorial con un'altra variante così in questo modo avrete la possibilità di vedere anche un'altra variante completa eccezionalmente diciamo facciamo questa cosa proprio perché l'attesa è stata tanta io non mi ero segnata i passaggi perché in realtà dovevamo uscire da lì a poco sono passati in realtà tre mesi da quando l'ho ideato e quindi ho avuto la necessità di sperimentarlo ancora ecco che comunque insomma questo è il risultato il risultato come l'avevo studiato allora e sono veramente molto soddisfatta spero che piaccia anche a voi come piace a me come è piaciuto a rene e a stefano ai quali l'ho proposto e l'hanno provato a pieni voti e quindi io ora vi do appuntamento a fra qualche giorno con il tutorial e quindi vi lascerò qui sotto già ad adesso potete appunto andare sul sito per acquistare le varie varianti del kit in modo che quando esce il tutorial avete già tutto il materiale pronto per poter realizzare il ciondolo in una park io vi ringrazio per aver visionato questo video e ci vediamo prestissimo ciao